È già mattina? Questo sì che è il risveglio perfetto. Fiori per il mio fiorellino, ma nessun fiore è bello come te. Ciao mamma! Ah, che bel pensiero! La colazione a letto, che meraviglia! Te lo meriti, tesoro. Sei tutto il mio mondo. Bel concerto, ragazzi! Dateci dentro, Corrock! Oh, ma stavo dormendo. Ogni mattina la stessa cosa, fai sempre chiasso. Farai tardi a scuola. Mamma, ma è sabato! Forza, andiamo! Ho quasi finito i compiti. Oh no, mi serve il bianchetto. Ecco qua, tesoro. Da quanto sei qui? Sono sempre qui per te, tesoro. Che bella dormita. Oh, latte e biscotti! Ma mi serve una tazza. Dove li tiene, mamma? Eccoti qua. Aspetta. Oh, ehi, Jared! Ok, che strano. Non ho più voglia di latte e biscotti. Come sei carina, Naomi! Oh, come sei romantico! Wow, il mio primo bacio! Ma lei è... tua madre? Mamma, mi prendo la rosa. Il mio ragazzo sta crescendo, voglio immortalare questo momento. Questa mi sa che è mia. Grazie. Ah, la musica classica, così rilassante. Posso davvero sentirla, questa musica? È ora di una solo, sì. Niente applausi, grazie. Ok, allora. Mi sento così rilassato. Quel rumore! Wow, musica rock! Diamoci dentro, papà! Ma questo non è Mozart. Papà, perché non ci dai dentro? Sai, non è così male. Sai che c'è? Mi piace! Sì, siete pronti? Potrei diventare famoso! Ehm, stai bene? Wow, il tuo vecchio non è poi così male, eh? Sei il migliore! Ti piace? Grande, papà! Oh, si inizia! Che c'è di speciale? Certo, tutto sembra più bello d'oro. Non ti preoccupare, è del tutto commestibile. Ma manca qualcosa. Eh, non lo voglio più. Oh, rincorrerebbe qualsiasi cosa. Questa è molto più alla mia altezza. Tovagliolini? Eccoli qua! Fa male! Perché ho avuto solo questi io? Se li tosto sarà decisamente meglio. Oh, mio Dio! Hai mai visto così tanto oro in un solo posto? Oh, cos'è questo odore tremendo? Non lo so. Il mio tosto mi sono completamente dimenticata. Speriamo siano ancora buoni. Ma non posso sprecarli! Credo di avere qualche avanzo del pranzo. Piccolo, ma meglio di niente. Ecco qua! Buon appetito! Che tenerezza! Ehi, camerieri! Trasformatelo in cibo. Ehi! È pronto? Oh, dai! È d'oro vero! Durissimo! Non mi ci spezzo mica i denti! I miei bambini adorano quelle cose! Ah, cibo! Così pare almeno! Non ci credo! Com'è schizzinosa, eh? Aspetta un attimo! Non sapevo avessimo un cucciolo! Oh, ma come soffice! Sembra assetato! Spero ti piaccia il latte! Eccoti qui! Dai, prendilo! Non sei molto vivace, vero? Meglio di niente, immagino. Oh? Oh, è la cosa più carina di sempre! Torno subito! Tesoro, qualcuno vuole conoscerti! Il tuo primissimo gattino! Puoi chiamarlo come vuoi! E' adottato come te! Divertiti, tesoro! Quasi finito! Questa festa dovrà essere perfetta! Direi che ci siamo! Dimenticavo i cappellini da festa! Non sto nella pelle! Ma dai! È per me! Sorpresa! Ti piace? Tantissimo, mamma! Ho un regalino per te, ma non sverciare! Ok, mamma, non guardo! Chissà che cos'è! Ora puoi aprirlo! Ta-da! Per me! Mamma, non dovevi! Però dammero adesso! Spero ti piaccia! Un'altra scatola? Ok, divertente! Un'altra scatolina? Ma quante scatole ci sono! Non sembra tanto grande! Non hai idea! Dai, aprilo! Ok! Sul serio! Mamma, una macchina! Ed è tutta mia! È il giorno più bello della mia vita! Devo subito condividerlo sui social! Quanto sono fotogenica! Ok, sì, non toccarmi però! Dai, è il tuo compleanno! Esprimi un desiderio! Brava! Tieni gli occhi chiusi! Questa la prendo io! Non si scherza col fuoco! E... Ti pareva! Dovevo immaginarlo! Mmm, vaniglia! Non piangere! Fatti una risata! Ho un regalo per te! Tanti auguri! Mi hai davvero fatto un regalo! Wow! C'è sempre una prima volta! Grazie tante! Credo! Niente male, eh! Ti starà benissimo! Devi avere qualcosa di nero da indossare! Basta il pensiero! La metterò da parte... Insieme a tutte le altre! Devo fare un po' di shopping! E adesso? Ha! Ho vinto di nuovo! Ciao tesoro, come stai? Ciao papà, sto bene! Che brava che sei! Carta e penna! Non in questa casa! Questa è per te! Oh, la realtà è virtuale! Che bello! Oh, ma guardala! Crescono così in fretta! Fammi controllare le mie azioni! Prendi questo! È questo! L'ho preso! Si sta divertendo un mondo! Occhio! No, c'è mancato poco! Dove sei? Torna qui! No, fermati! Non farlo! Questo è un capolavoro! È del diciassettesimo secolo! Per favore, fermati! Preso! È stato fantastico! Così realistico! Non ti lascerò più! Che è successo qui? Immagino di essermi lasciata trasportare! Ma ti sei divertita! Pronta? Frutta? Che c'è di bello nell'uva? Lei ha avuto un'anguria intera! Grazie! Divertente! Cosa ci faccio con questa cosa enorme? Lo so! Mestolo? Bello! Pinze? Frusta? Quasi finito! Olè! Bellissima! Tutti adorano le torte grandi! Oh sì! Amm... Tina? Oh! Sei pronta? Arriva! Presa! Pazzesco! Ecco qua! Ehi! Non vuoi questa torta? Dai! Guardala! Arriva! Beh, questo è ridicolo! Io faccio sempre giocare i miei bambini col cibo! È tutto perfetto! E forse qualcosina per il dolce? Adoro davvero questo posto! C'è qualcosa che non hanno! È incredibile! È meraviglioso! Siamo proprio sicuri? Questa roba è ricoperta di melma! Non posso mangiarla! Sono alghe! No, non le tocco! Sento l'odore dell'oceano! E quel pappagallo? Lui ha un hamburger! Sì, voglio quello che ha lui! Oh! Che bello! Se lo dici tu! La mia vista mi sta tornando! Questo è l'esatto ordine di Richard! Oh mio Dio! Non ho mai mangiato patatine fritte! Oh! Che cibo interessante! Che cos'è questo fast food? Mmm! È deliziosa! Altri due, per favore! Quanto mi piace questo libro! Wow! Questo è un colpo di scena! Guarda la mia piccola intellettuale! Ciao mamma! Ciao cara! Ho qualcosa per te! Lo apriamo? Sì, grazie! Metti via i tuoi libri! Non ci servono! Quello che serve... È un servizio da te! Ma che carino! Ci giochiamo! Vuoi un po' di te, bambolina? Con piacere! Tante grazie! Ah! Ti sto stracciando! Oh! No! No! Un gioco da ragazzi! Dai mamma, mettici un po' di impegno! Stai barando! Il mio joystick non funziona! Funziona e come? Prova con gli occhi chiusi! Ok, ha mali estremi, estremi rimedi! Mamma! Non ti dai più tante aria, eh? No! Come hai fatto? Non capisco! La prossima volta ti batterò! Questo gioco neanche mi piace! Meglio così! Io me ne vado! In fondo qualcuno deve pur comportarsi da adulto! Ci vediamo? Proprio non sa perdere! Rovina sempre tutto! Ok, ho preso tutto! Mamma, vado a scuola! Mamma! Dov'è? Mamma, sei qui! Ehi mamma! 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 Non la trovo! Devo andare! Che giornata! Non ci credo, ancora non c'è! Dovrei chiamarla! Ma dai! Forza! Questa sì che è vita! Ehi tesoro! Sei in vacanza! Mi sta interrompendo, ciao! Meglio se lo blocco! Devo concentrarmi sulla bronzatura! Mh, del cioccolato! Lo metto da parte! O forse no! Ho bisogno di vestiti nuovi! Mh, dov'è il bidone della spazzatura? Eccolo! Oh, questa cosa è peggiore della mia felpa! Tesoro! Quella roba è sporca! Torna qui! Ti porto io a fare shopping! Presa! Non dovrai più rovistare nella spazzatura! Posso darti io quello che ti serve! Eh sì, salve! Abbiamo bisogno di vestiti! Subito! No, è urgente! Wow! Spero che questi bastino! Questo sembra della tua taglia! Oh, adoro vederti sorridere! Io aspetto qui! Oh, sembri una piccola principessa! Non è un tesoro! Finché ha le tasche! Togliamoci il dente, dai! Un cono gelato senza gelato! Come sei arrivato in fretta! I suoi topping, madame! Bellissimi, vero? Ma senza gelato! Aspetta, so cosa fare! Tutti qui dentro! Tutti qui dentro! Tutti qui dentro! E poi? Cioccolato fuso, ovviamente! Riempiamo! Poi sopra una ciambella! Hai mai visto una cosa così bella? Non ho nulla di tutto ciò! Oh, come nevica! Ma certo! Torno subito! Ma dove sta andando? Ehi! Tutto ghiaccio gratis! Non ci credo! Devo solo dargli forma! Carino, vero? E vabbè! Stavolta vinco io, sicuro! Wow! Sembra il mio compleanno! Non l'è piaciuto! Mi piacciono le ciambelle! E abbiamo una vincitrice! Ah, prego tesoro! Un bel pranzetto buono e genuino, quello che serve ad ogni ragazza! Le preparo anche lo zaino! Oh, i suoi libri! Ma quanti ne ha? Jennifer! Ciao, mamma! Eccù! Hai starnutito? Non ti senti bene? Sto bene, mamma! La prudenza non è mai troppa! Adesso ti visito! Ma no! Non mi piace! Oh, ok, ho visto abbastanza! La mamma si prenderà cura di te! Questo ti rimetterà a posto il naso! Mamma, è fastidioso! E poi bisogna farti stare al caldo! Au! Mamma, ma che fai? Adesso puoi andare! Grazie! Odio la mattina, ma devo alzarmi! Oh no, è tardissimo! Mamma! La mia chitarra! Mamma, sono in ritardo! Alzati! La mamma ha fatto le ore piccole ieri sera! Come sono tornata a casa? Era una festa da sballo, però! Ho una fame! Cos'è? Cos'ha questo profumo? Ah, quel che mi serve, sì! Mamma, non ho niente per il pranzo! E che posso farci io? È la mia colazione! Va bene, tieni! Tutto qui! Non ti va mai bene niente, eh? Ok, da qua! Contenta adesso? No! Non è un pranzo! Sono avanzi! Ma che problemi ha quella ragazza? Ah, se n'è andata! Posso dormire? Spero di non sognare vestiti bianchi! Non ci credo, mi è caduto un dente! Spero venga la fatina dei denti! Super divertente! Ups, è meglio spegnere la luce! E ora si dorme! Ho sentito che c'è un dentino per me! Devo prendere una nuova bacchetta! Ah, eccolo! Lo terrò al sicuro! Ma dove ho messo i soldi? Li metto sotto al cuscino! No, non voglio andare a scuola, mamma! Speriamo non si svegli! Fiu, c'è mancato poco! Ma era la fatina dei denti! Ma davvero? Ora risolvo subito! Ehi, fatina! Mi sa che c'è un problema! La fatina dei denti le manda i suoi saluti! Mettila qui! Ecco qua! Contenta? Oh, ora sì che si ragiona! Te la svuoto! Tutto questo per un solo dent! Wow! Ecco qua! Grazie dell'aiuto! E li sei meritati! Arrivederci! Arrivederci! Il mio ragazzo si merita il meglio che c'è! Ne è valsa totalmente la pena! Ah, questo dovrebbe svegliare la principessina! Buongiorno! È ora di cominciare la sua giornata! Ma non coi piedi freddi, ovviamente! Pantofole fa scivolare dentro quei piedini! Spero che tu abbia fame! Ma prima dobbiamo lavarci i denti! Forza! Ecco il suo spazzolino, signorina! Spero che le piaccia il dentifricio d'oro! Ma è tutto reale! Devo avere un bel sorriso! Ah, com'è morbido! Sei ancora sveglia? Volevo leggerti una favola della buonanotte! Sì, mamma, che bello! Questa ti piacerà? Un po' di polvere magica? Ogni principessa ha una corona! C'era una volta una bellissima principessa di nome Jennifer! Vieni, orsacchiotto! È ora di dormire! Abbracciami forte! Cos'è questo rumore? Sarà mica un mostro? Ok, ce la puoi fare! Ciao, piccola! Ma che ti salta in mente? Mamma! Che faccia hai fatto? Pensavo di leggerti una storiella! Tipo questa! Questa! Non dormirò stanotte! Guarda qui! Wow, interessante! Bravo, mangiati la mela! Bravo, ragazzo! Non devo farmi beccare! È ora di andare! Non mi ha vista! Oh no, si è scordato lo zaino! Non ti preoccupare, ti salva mamma tua! Oh, non lo sapevo! Eh? Dov'è il mio zaino? Sicuramente non sulla mia schiena! Oh no! L'ho lasciato al parco! Devo tornare a prenderlo! Ehi, il mio zaino! Come ho fatto ad arrivare fin qui? Non capisco! Oh bene, almeno l'ho recuperato! Che strano! Ti guardo le spalle, tesoro! Missione compiuta! E questa è la mia stanza! Oh, e il maggiordomo indossa i miei gioielli! Comunque, il maggiordomo ti trasformerà! Sì, dunque, sediti qui! Ci divertiremo un mondo! Bene, divertiti! Devi provare questo braccialetto! Oh, e anche questa collana di perle! E ti serviranno anche questi anelli! In realtà, devo andare un attimo in bagno! Ehi, molto meglio! Che bel bagno! Beh, del resto lei è ricca! Oh no! Non c'è la carta igienica! È finita! Oh, provo con la doccia! Wow, ma è fatta d'oro! Fammi provare! Ah! Sto volando! Oh! Questa non l'avevo mai vista! Un classico! Oh, ciao! Ma guardalo! Che carino! Dai, staccati! Credo ci serva una nuova spazzola! Serve una mano? Mamma! Questo ragazzo mi fa spaccare! Ehi, mamma! Wow, che venticello improvviso! Davvero? Non ci credo! A mali estremi? Niente! Ok! Ho le tue caramelle! Na 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 na! Aspetta un secondo! Cosa? Oh, ha funzionato! Mi serve una mano, mamma! Oh, vieni qui! Spero non sia uno scherzo! Dammi qua! Sei un mascalzone! Cosa hai nei capelli? Era quello che stavo cercando di dirti! Adoro il mio compleanno! Spero che si avverino i miei desideri! Beh, io ti posso aiutare! Ecco i tuoi primi regali! Wow, ma non dovevi! Maggior domo! Mostragliela! Esatto! Ti abbiamo preso una bellissima bambola! E somiglia a te! Oh, wow! Ma grazie mille! Wow! Guarda, cammina! L'accenderemo così puoi vederla! Oh, fai i miei stessi movimenti! Sono contenta che ti piaccia! Wow, ma è davvero spettacolare! Fa quello che faccio io! È straordinario! Proviamo a ballare! Oh, oh no! Forse ho esagerato! Oh, credo si stia rompendo! Maggiordomo, maggiordomo! La bambola è impazzita! Accidenti, mi scusi! La toglierò di mezzo! Va bene, va bene! Ci penserà il maggiordomo! Visto che la bambola si è rotta, perché non ti scegli uno yacht? Ma non so! E che mi dici di uno di questi? No? Beh, che mi dici di questo qua giù? Eh, no, non credo, non fa per me! Oh wow, guarda là! Ma è perfetto! Sì, adoro il fenicottero gonfiabile! È sicura che non vuole uno yacht? Grazie, sei la migliore! Il bambino si insinua nella stanza e la mamma fighissima lo ha preso a calci nel sedere! Ah, ah, ciù! Spero non sia stata una caccola! Ah, è un dente! Wow, oddio! Aspetta, possiamo farci i soldi con questo! Ottimo, Liam! Notte, mamma! Ho sentito che qualcuno ha un dentino per me! Oh, che carino! Dov'è il dente? Eccolo! Mi sembra uno scambio equo! Dobbiamo parlare! Cosa? Chi sei? Tira fuori i soldi! Oh, ok! Non male! E il resto? Forza, forza! Continua così! Tesoro, così posso essere una principessa! Battene! Oh, grazie! E non tornare! La fatina dei denti è stata brava! Dovrebbe bastare! Oh, un anzoletto! C'è qualcuno? No, non sarà niente! No, c'è proprio qualcuno! Non può essere Babbo Natale, vero? No, non avere paura! Devo fare piano, come un ninja! Chi è? Perché canta così male? Devo fare qualcosa! Pensa! Colpisci veloce, colpisci forte! Nessuna pietà! Ti sei allenata per questo! Oh, la, 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 la! Wow! Non farmi del male! Che bella serata! Lo so! Accidenti! Mamma, papà! Un vecchio ha fatto irruzione, ma io l'ho preso! Tranquilli, sto bene! Adesso sono un'eroina! Aiuto! Oh, sto per svenire! Tesoro, è caduta per poco! Oh, ho un pochino fame! Oh, ci penso io! Maggiordomo? Che ne dici dei tacos? Nah! Ok, del sushi? Ancora no? Va bene! Costolette di maiale? Sì, hai ragione, troppo pesanti per pranzo! Oh sì, gli spaghetti! Perfetti, direi! Bene, venite con me per il vostro pranzo! Voi siete pronte? Tra poco si mangia! Wow, siamo così in alto! Wow, ma non ho mai mangiato in Italia! Beh sì, dacci dentro! Mmm, sembrano deliziosi! Scommetto che sono squisiti! E via col primo boccone! Accidente, è la cosa più buona che io abbia mai mangiato! Sì, hai ragione, sono buoni! Ed è un ottimo modo per trascorrere la giornata! Mi leccherò persino il piatto! Erano molto, molto buoni! Oh, i fiori qui sono così belli! Questi pomodori sono così freschi! Signorina, mi scusi, lei è sua ospite? Adoro questi fiori! Oh no, non dovrei raccoglierli, mi dispiace! Non possiamo permettere che strappi i fiori in quel modo! Devo chiedere a entrambe di andare via! Beh, che mi dice di questo? No, mi dispiace, non può comprarmi! Oh, aspetta un attimo, vuole comprare il ristorante! Beh, allora tutto cambia! Si goda i fiori, allora! Stai benissimo con questi fiori! Sai che c'è? Hai ragione! Adoro questi fiori! Sì! 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 Sì!